Coloro un po' qui e sono pronta per il college! Ciao a tutti! Cosa ci fa qui questa bella bambina? Non vai bene per il college dei cattivi! Oh, chi è quella? È uno scherzo! State ridendo di me? Vediamo chi riderà per ultimo! Ecco la nuova super cattiva! Dai, brucia! Sì, ha funzionato! Non giocare con il fuoco! Come osi! Attenta! Stai attenta tu! Una lotta tra cattivi potrebbe portare a gravi conseguenze! Cosa? Sono l'unica che ha il permesso di alzare la voce in questa classe! Ho bisogno della mia magia! Porto via le vostre voci! I litigi silenziosi non sono interessanti! Una conchiglia custodisce i miei trofei! E tempera benissimo le matite! Incolla un tempera matite in una conchiglia! Dipingila d'oro! Attacca un cordino! E oggi vi meritate una F! Nel dubbio trasformatevi in un animale! Cosa vedo? Si è davvero addormentata durante la mia lezione! Come osa! Bene! Le darò una F! Ehi, svegliati! Guardati allo specchio! Stai bene? Oh no! È orribile! Lo cancellerò! Anche se... Ho un'idea migliore! Cos'è questo rumore? Crudelia! Ciao! Vi sono mancata? Cosa? Da dove arriva questo rumore? Non stavamo facendo niente! È un altro tentacolo! Abbinamento perfetto! Cosa sta succedendo? Di cosa state ridendo? Una penna? È unica! Ha una luce UV! Ha un'idea migliore! Incolla una torcia e una sfera trasparente a una penna! Crea la trama di una bacchetta magica usando la colla a caldo! Fai un taglio dove si trova il tappo! Dipingi e ricoprilo di gel! Cos'è? Oh no! Sono io? Cos'altro avete disegnato? Aha! Vedo! Beh... Attenti a voi! Queste carte fanno sempre casino! Specchio magico! Come sarò in futuro? Oddio! Che cos'ha la signorina Ursula? Dov'è la crema antirughe? Me ne serve di più! Ancora di più! Cosa avete da guardare? Mi piacerebbe vedervi quando avrete la mia età! Il vostro compito è inventare un piano malvagio! Che noia! Ed ecco qualcosa di divertente per voi! Da leggere a casa! No! I libri no! Che incubo! C'è così tanto da leggere! È ora di presentare i vostri progetti! Entra Aurora! Non essere timida! Quindi questo è il tuo progetto malvagio! Aspetta! Arcolaio! Appari! Oh! Che cos'è? Ah! Ora capisco! Ottimo lavoro! Grazie! Perché Crudelia è assente? Sorpresa! Sorpresa! Farò un grande ingresso! Ho trovato il modo migliore per usare i tuoi libri noiosi! Sono in sciopero contro i compiti noiosi! Che audacia! Piace anche a me! Oh cielo! Tutti si sono dimenticati del mio compleanno! Nessuno mi fa gli auguri! Beh, ciao! Come osi! Dov'è il mio ombrello? Odio le sorprese! Crea un tentacolo con l'argilla polimerica! Forma delle ventose e cuoci seguendo le istruzioni della confezione di argilla! Taglia il manico di un ombrello e limalo con la carta vetrata! Attacca il tentacolo! Rivesti con la pittura acrilica! Prendi questo! Una coda! Dove sono finite le mie belle gambe? Aiuto! Buon compleanno! Immagino che sia un pessimo momento! È per me? Mi piacciono i dolci! Qualcuno mi restituisca le gambe! Oggi farete un test! Mettetevi al lavoro! Un test! Ma non siamo pronte! Ho escogitato un piano malvagio! Ursula ha paura dei topi! E noi la spaventeremo! Smettetela di parlare! Piccolo, conto su di te! Vai! Che cos'è? Un topo! Questo costume può ingannare chiunque! Ha funzionato! Ecco le risposte! Siamo così malvagie! Prendi nota! È così bello! Ciao! Guarda che corna! Devo andare! Si è spaventato! Ehi amica! Penso che tu debba cambiare il tuo stile! Ecco qua! Ora sei chic! Copri le corna nere con la colla! Cospargile di glitter! Aggiungi gli strass! Le mie corna sono brillanti! Wow! Sì! Dobbiamo andare! Resta qui! Mettiti in posa! Dai! Non aver paura! Wow! Ciao bellezza! Adoro le tue corna! Vuoi uscire con me? Ecco il tuo quaderno dei piani malvagi! E il tuo, Crudelia! E ciò! Oh! C'è della melma oceanica sopra! Non volevo! Ehm... Ma che schifo! Come lo sistemo? Oh! Ho un'idea! Ecco! Così è molto meglio! Attacca la gomma piuma a un quaderno! Crea un motivo a dalmata! Cosa? Come hai potuto? Grazie piccolo! Come? Vabbè! Ecco il tuo diploma da cattiva! Congratulazioni! Sono così orgogliosa! Ed ecco il tuo diploma, Crudelia! Non pensavo che sarebbe finita così! Il mio diploma! Finalmente! Era il mio sogno sin da quando ero bambina! Trasformerò questo mucchio di stracci in un capolavoro! Taglierò qui... E qui! Ritaglia dei pezzi di vecchi vestiti e cuci uno zaino! Aggiungi un lembo! Aggiungi anche le cinghie e una maniglia! Fatto! Il collage dei cattivi! Un giorno ci andrò di sicuro! Ti è piaciuto il nostro video? Allora commenta qui sotto e dici chi ti è piaciuto di più! Crudelia, Malefica o Ursula? E non dimenticare di mettere il like a questo video! Di iscriverti al nostro canale e di fare clic sulla campanella! Per non perderti nessun nuovo esilarante video di Troom Troom!